L'essere ingegnere architetto è stato sicuramente un valore aggiunto nell'esperienza di studio all'estero, tirocino e lavoro che finora ho svolto e la nostra capacità di interfacciarci sia con l'ambito degli ingegneri che degli architetti è stato sicuramente fondamentale nel sviluppo del progetto. La città di Bologna offre tantissime opportunità sia di socialità grazie alla grandissima comunità di studenti e studentesse dell'università, anche opportunità culturali. In più la vasta offerta formativa dell'Università di Bologna mi ha permesso di esplorare anche a livello interdisciplinare altri ambiti come nel mio caso per esempio le archivisive. Sono rimasta felicemente stupita dalle modalità didattiche del nostro corso, infatti grazie ai tantissimi esami laboratoriali è stato possibile per noi studenti e studentesse legare e inoltre avere anche un contatto diretto con il professore della professoressa del corso.